Misano è stato un weekend molto teso perché comunque quando si corre in casa c'è sempre un po' più di tensione nell'aria, però siamo riusciti a ottenere una vittoria molto importante sia per me che per Aprilia che per il campionato. È stata una gara vincente perché ci siamo combattuti in quattro piloti fino all'ultimo giro e l'ultimo giro sono riuscito a fare la differenza e a portare a casa appunto la vittoria. La cosa ancora più bella è stato che il team mi ha fatto trovare sotto il podio la maglia celebrativa con la scritta King of Romagna e è stato molto emozionante.